Chiamo adesso a parlare Francesco Ferrara, ricordando a tutti che si può interloquire con la nostra manifestazione con i due hashtag Perugia2016 e Energie Nuove, che in questo momento stanno avendo un grande successo, a dimostrazione che la nostra discussione è molto seguita e che sta diventando un momento importante anche di informazione social, quindi continuate a interloquire. Grazie. Grazie. Sono venuto qui accogliendo volentieri il vostro invito, di cui vi ringrazio con lo spirito di un uomo di sinistra che coltiva un desiderio ed è animato da un proposito. Il desiderio di compiere un passo in avanti, il proposito di farlo insieme. Il passo in avanti da compiere insieme è quello che si misura sul terreno dell'unità e della qualità della sinistra nel nostro Paese. Qui c'è qualcosa di urgente, qualcosa che mette fortemente alla prova la credibilità di ciascuno di noi, ovunque sia collocato dentro la diaspora che dissemina il campo della sinistra in Italia. Questo è allora il nostro problema dominante e noi, tutti noi, fin qui, non siamo stati in grado di dare a questo problema una soluzione tempestiva all'altezza delle sfide. Prima di tutto quella sociale, che la crisi è aperta in Italia e in tutta Europa. Sono convinto da tempo che le distanze, i contrasti tra questa sinistra che oggi è minoranza dentro il Partito Democratico e quella dentro la quale mi colloco, non risiedono prima di tutto nel programma. Ho letto con attenzione le schede tematiche a base di questo incontro. Meno di un mese fa a Roma, sinistra italiana, ha svolto un'assemblea nella quale gli snodi dell'agenda politica del Paese risultano medesimi di quelli voi qui che discutete. Lavoro e sviluppo, welfare e salute, fisco e finanza pubblica, governo del territorio e riforma delle istituzioni, crisi della rappresentanza e funzione dei partiti. Non solo. In molti punti di merito, tanto l'analisi quanto la proposta si collagono, direi oggettivamente, nel medesimo spazio concettuale. Faccio l'esempio a me più congeniale, quello del lavoro. Voi parlate dell'affermarsi in questi ultimi anni di un turbo capitalismo che è in grado di coniugare la necessità di competitività con l'obiettivo della coesione sociale e dunque genera nuove diseguaglianze e contrae proprio a partire dal lavoro i diritti collettivi e individuali. Indicate come via d'uscita la strada dei grandi investimenti pubblici, oltre che di quelli privati, di un sistema del credito a sostegno delle famiglie e delle imprese innovative, di una politica economica e industriale che, a partire dal mezzogiorno, rilancia i consumi dei sceti più poveri colpiti ferocemente dalla crisi. È una lingua che conosco bene, dato che è la stessa che parlo anch'io. Del resto, non più di tre anni fa, e nel colmo di una crisi che tutto abbiamo definito epocale per le proporzioni e gli sconvolgimenti, voi e noi abbiamo lavorato attorno ad un programma politico, Italia Bene Comune, che indicava una via d'uscita di sinistra alla crisi dell'austerità e la indicava non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, data l'interdipendenza sempre più stretta tra i governi nazionali e le politiche comunitarie. Aggiungo che anche quando sul programma si manifestano approcci differenti su determinati nodi, come può essere ad esempio quello del destino politico dell'Europa e della sua moneta, trovo queste differenze in qualche misura naturali. Né noi né voi abbiamo in mente una sinistra depositaria di una verità precostituita e di certezze rassicuranti. Io sono per l'Europa. Il punto è quale Europa. E su questo occorre confrontarsi. L'Europa della solidarietà o dell'austerità? L'Europa dell'accoglienza e dell'integrazione o dei rispingimenti e dei fili spinati? C'è uno spazio grande, drendo cui la sinistra si colloca, che appartiene al dubbio e dunque alla ricerca, all'analisi, alle ipotesi da sottoporre sempre a verifiche, specie quando queste ipotesi riguardano le soluzioni concrete da dare, sul piano politico, a questioni inedite che riguardano la vita reale delle persone. Non è allora qui, sul terreno prima di tutto programmatico, che si gioca la partita di quella che io chiamerei l'unità e la qualità della sinistra in Italia oggi. È del tutto evidente che su questo terreno è e rimane strategico, ma, come ho cercato brevemente di dire prima, abbiamo insieme dimostrato di poter esercitare sul programma la pratica di un confronto che è ricerca e costruzione di una risposta comune. Il punto viceversa su cui risconto la contraddizione, che non ci fa compiere, almeno fin qui, alcun passo in avanti, è tutto dentro la pratica politica reale. E non è un punto da poco. Penso che su questo si sta misurando da una parte la reale efficacia della minoranza del Partito Democratico, di tenere il barricimento a sinistra e dall'altra, noi, sinistra italiana, che a fine anno daremo vita a un nuovo partito, di evitare, insomma, un'altra falsa partenza. Allora mi chiedo, come riusciamo a fare su questo punto che ci viene inchiodati un passo avanti? E cosa occorre per farlo insieme? Bisogna su questo essere chiari. È chiaro, voglio esserlo con voi, come lo sono nel percorso che sto conviendo in questa fase in sinistra italiana, dopo l'assemblea del mese scorso in prospettiva verso il nostro congresso. Il punto debole che colgo nel percorso di sinistra italiana si sta dando riguardo, dal mio punto di vista, il nodo del centrosinistra. È evidente che la piega assunta da Renzi, tanto come segretario del Partito quanto come capo del Governo, e l'Italicum è un esempio calzante, scioglie questo nodo in maniera per me negativa e chiude una possibilità. Ma questo nodo, il suo destino, a mio parere, non appartiene a Renzi e non appartiene neanche a tutto il Partito Democratico. È un nodo che sta tutto dentro alla storia politica dell'Italia e in ogni sua fase passata ne segna il tratto peculiare fino alla stagione dell'ulivo e poi al tentativo non riuscito di Italia bene comune. È un nodo che corrisponde a un dato oggettivo che ha a che vedere con l'equilibrio politico e storico del Paese. Dare per definitivamente archiviato questo nodo, a seguito dell'avvento di Renzi alla guida del PD e per effetto della sua azione di Governo, io ritengo sia un errore, un errore politico. Compito di una forza politica non è solo quello di prendere atto del dato di fatto. Occorre insieme battersi per una prospettiva, se la si ritiene giusta, necessaria, pur se messa da parte dalla realtà del momento. Il punto debole che colgo nell'azione della minoranza del PD è nel prendere atto, cioè nel trarre le necessarie conseguenze che tra i presupposti fondativi, originari, storici, culturali del Partito Democratico e l'azione del Governo esiste oramai un solco profondo. Basterebbe confrontare queste schede tematiche di cui prima parlavo da voi prodotte e le scelte più significative di questi due anni di Governo, che qui ora non richiamo, ma che proprio su questi nodi del lavoro, del welfare, del mezzogiorno partono da tutt'altra parte, così come la riforma costituzionale. Quali siano le concrete conseguenze da trarre, non sta a me dirlo, e riconosco che la questione ha una sua oggettiva complessità da ogni punto di vista, ma è un passaggio sempre meno rinviabile. Allora credo che compiere un passo in avanti e compierlo insieme, nelle condizioni date, voglia dire prima di tutto mettere a tema dinanzi al Paese, dinanzi al bisogno di una sinistra per l'Italia, dinanzi a un popolo disperso che non ha più rappresentanza e trasmigra nella diaspora o si rifugia nell'astenzionismo, le due questioni che a mio parere decidono della qualità e dell'unità della sinistra. La natura di questo Governo è il nodo del centrosinistra. Nell'autonomia reciproca, nelle collocazioni differenti, nelle differenze esistenti, dobbiamo lavorarci insieme. Perché se non disperdiamo il valore di un passato, se ci misuriamo sulle distanze del presente, prepariamo già qui, adesso, la prospettiva della sinistra del futuro.